Erano le 20 di ieri sera quando il titolare di un'impresa di soccorso stradale di 41 anni aveva chiuso la sua attività a Paola. Appena il tempo di salire nella sua auto ad un passo dal garage della struttura è stato raggiunto dal suo aggressore. David Christian Florian, di 20 anni, un suo dipendente ha afferrato in mano un coltello dalla lama lunga 24 cm e larga 4 cm colpendolo dritto in testa, perforandogli il cranio. La lama è penetrata tra l'occhio e l'orecchio e nonostante la ferita profonda, l'imprenditore è riuscito a scrivere con il suo sangue il nome del suo dipendente sulla sua auto, consentendo ai polizziotti di mettersi sulle sue tracce, mentre il fratello della vittima, che era nelle vicinanze, ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trasportato prima all'ospedale di Paola, poi all'annunziata di Cosenza, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato ben 5 ore. Il 24enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla squadra mobile di Cosenza con l'accusa di tentato omicidio. Resta il mistero sul movente. Secondo gli inquirenti, al di là di qualche screzzo lavorativo, potrebbe esserci dell'altro.